Una persona, un imprenditore di Bari, ormai noto, che si chiama Tarantini o Tarantino, era venuto ad alcune scene facendosi accompagnare da belle donne. E io dico che, anzi tra i maschi, i miei colleghi e qualcuno qui presente, la mano a dire che non è una cosa gradevole quello di sedersi a un tavolo e invece di trovarsi soltanto persone lontane dall'estetica, se invece gli occhi si possono posare su delle presenze femminili, gradevoli e simpatiche.